G.B. Spadafore, ori argenti di Calabria. Monica, prima di fare un'ultima domanda alla comandante, voi ci avete affiancato ormai da qualche anno e quest'anno mi hai colpito perché hai detto, guarda, facci sapere prima se ci sarà anche la terza edizione perché vogliamo fare qualcosa di speciale. Venire qui a questo premio e vedere poi queste storie in un artista che deve forgiare letteralmente questi lavori, quanto è importante sapere che poi questi premi vanno nelle mani di persone così speciali e quanto ha aiutato, se serviva un aiuto, a maestri come voi nell'ispirarvi a realizzare questo oggetto da dedicare al mare che è un faro, anche quest'anno. Intanto il tuo comitato scientifico ha sempre colto nel segno, quindi era facile per noi cercare di realizzare e di trasformare in maniera materiale quelle che sono le esperienze e le emozioni che poi ci vengono raccontate in queste serate. Il fatto di aver sposato il tuo progetto ci rende veramente orgogliosi da calabresi di montagna di riuscire a sposare un progetto che riguardi il mare. Abbiamo sposato l'idea del faro già dall'anno scorso anticipando di un anno quella che è la campagna attuale di promozione della Calabria turistica, pari montagna e dispari mare. Quindi diciamo che siamo stati un pezzo avanti, grazie a te Piero e all'entusiasmo che ci trasmette ogni volta che proponi qualcosa. Tu lo sai che per raggiungerci ogni tanto è difficile d'inverno, un paio di volte sono saltati i nostri appuntamenti a causa della neve, quindi ti ringrazio per accoglierci in questi scenari meravigliosi, ringrazio il sindaco che è anche lui promotore di questa bellissima iniziativa. E' veramente per noi un orgoglio, per me in particolare essere qui a premiare la prima edizione del premio Gente di Mare all'interno della manifestazione è veramente motivo di orgoglio che mi porterò dietro per tanto tempo, soprattutto dovendo premiare una persona come lei. E grazie a Monica Spadafora, vedete questi passaggi generazionali che riescono bene in Calabria. Un'ultima domanda, comandante, lei si occupa di un settore delicato, la comunicazione, l'abbiamo visto su Rai 1 proprio in quest'inverno nella crisi di Lampedusa, raccontare questi sbarchi e questi momenti. Ecco, le voglio chiedere una domanda proprio tecnica legata a come si comunica in questo paese. Ma non c'è un'Italia migliore che spesso incontriamo nei borghi, magari nei porti anche piccoli e nella periferia, nella provincia che sembra non esistere in Italia e che invece poi la ritroviamo. Ecco, perché non viene fuori quell'Italia e ne viene fuori un'altra? Cosa è successo al nostro paese? Io credo che ci sia una suefazione, l'ha detto anche il Presidente della Repubblica parlando della vicenda di Lampedusa. Purtroppo questa suefazione la produce certa comunicazione sbagliata che esagera i toni, che moltiplica le esclamazioni e che passa sopra quindi le cose più piccole e più importanti. Infatti sono ammirato del modo con il quale lei sta conducendo invece questo incontro, che per me è un incontro con l'Eccellenza Calabrese e sotto la luce del faro, quindi sotto questo segno marino così importante che serve davvero a riscoprire, a far vedere di più cose che altrimenti rischiamo di non vedere. E noi abbiamo davvero bisogno di queste storie, raggiungiamo il centro, il Comandante Vittorio Alessandro, Monica Spadafora con me, vedo anche il Comandante Piccioli felice di questo momento perché quando ci ha conosciuto l'anno scorso il premio Gente di Mare di fatto non esisteva e anche il suo entusiasmo ci ha aiutato. Maestro, vuole dire qualcosa? Il Maestro Spadafora, la raggiungo. Prego. Io già l'ho inventato per l'anno prossimo, una cosa grandiosa, non ve lo posso dire adesso. E questa è la Calabria, si è di nuovo entusiasmato e adesso chissà cosa verrà fuori. Vado a leggere le motivazioni. Il premio Gente di Mare, la prima edizione, una sezione dentro il faro a Vittorio Alessandro per la sua brillante carriera nella Capitaneria di Porto di tutta Italia, nelle Capitanerie di Porto di tutta Italia, esplicata con professionalità e dedizione nell'intensa attività di salvaguardia dei siti ambientali di interesse internazionale e per aver garantito la sicurezza di migliaia di uomini, spesso salvandogli concretamente la vita, per essere uno degli uomini di mare più attivi ed efficaci nella protezione di un bene universale come il mare, che quotidianamente contribuisce al miglioramento della qualità della vita di tutti quelli che lo vivono e lo vivranno in futuro. Premio Gente di Mare a Vittorio Alessandro. Queste sono le storie che qui vogliamo raccontare, lo fa Vibolo, fa la città di Vibolo, fa la Calabria, credo davvero c'è un'Italia diversa e voi anche come pubblico questa città sa di poterlo fare e siete davvero la forza di questo progetto, tornateci ogni anno e soprattutto fate capire all'Italia che siete un pezzo d'Italia importante. Grazie comandante, grazie a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.